Musica Ragazzi benvenuti in questo nuovo video Ascoltatemi un secondo perché vi devo dire una cosa importante Io lo so che Blackout a molti di voi non piace Lo so perché vedo che fondamentalmente i video di Blackout li guardate molto meno rispetto ai video normali E lo capisco anche a me non piace Blackout come modalità di base Ma ragazzi fidatevi di me i video che sto cercando di portarvi su questa modalità sono dei video alternativi Nella quale gioco sia Blackout ma i modi alternativi Per esempio i video che vi ho portato qualche giorno fa nella nuova modalità Erano appunto di video nella nuova modalità che è completamente diversa dalla solità Blackout Vi assicuro che è veramente un altro gioco Quello che invece vi sto portando oggi ragazzi è addirittura un match a soldi su Blackout Un wager Abbiamo scommesso dei soldi, pochi euro E abbiamo giocato contro due avversari casuali Come funzionano questi match a soldi? Si fa un gruppo da quattro Io e il mio compagno contro i due sfidanti Si va a cercare le squad E vince la sfida alla coppia che riesce a fare più kill In caso di parità di kill La coppia che muore per ultima vince Questo vi assicuro che vi permette di giocare alla modalità in un modo completamente diverso E vederla in un modo completamente diverso Normalmente sarebbe una gara di sopravvivenza Giocata così è una gara a chi fa più kill Però allo stesso tempo devi stare attento perché non vuoi morire È una tensione unica ma è divertente È veramente tanto Questa partita soprattutto è veramente figa Vi invito a guardarla tutta E vi invito anche a guardare gli altri video di Blackout Che magari portano in futuro Perché vi assicuro che sto cercando di sfruttare questa modalità nel migliore dei modi Per tutto ciò vi lascio al video ragazzi Buona visione Questa è vinta È vinta Poligono a cazzo duro? Sì sì certo Questi vediamo dove vanno Chi sono? Non ho neanche visto i nomi di questi qua Come si chiamano? Cosmos Burgos Boh ma non ci importa di quello Andiamo andiamo Poligono eh Anche loro forse ci vanno eh Può essere eh Secondo me vanno a puntano river mi sa Tu sei il verde vero? Sì puntano river Vabbè ovunque vada non me ne fotte nulla Non vinceranno tanto Shit Cazzo mi sta cadendo il microfono Puttana troia Ok Ok c'è gente a poligono è pieno Sì Ok Minchia c'è un team Minchia almeno due team zio Devi pigliare il buco Se pigli il buco facciamo una strage C'hai un tipo che sta entrando da te Ok È sceso Ce l'hai sotto qua Esci ammazzalo È fuori da Eh non ho Ho una Ho un titan Leo Ho solo un titan Leo Vado sui tetti Ci giochiamo i tetti Dove sei tu? Mi vedi guarda sono il verde Sono sul tetto di qua Si è droppato un adesso A poligono Io c'ho solo un pompa però Questo è un problemino Sì giochiamoci infatti stiamo qua Perché nel caso andiamo via Cioè corriamo un po' più via Aspetta ma devo trovare un'arma Cioè non posso scappare con la pompa Ok Una mitraietta vai Andiamo a sfondarli Giro il trauma eh Ho solo il titan però Aspetta C'è un dardo C'è un dardo C'è un dardo C'è un dardo Ah ce l'hai tu Ok pensavo ci fosse Ok andiamo 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 Si sparano C'è uno davanti One shot uno Sono diversi credo No guarda quanta Guarda quanta È in pieno di gente Leo Pieno Andiamo dietro Puntiamo quelli dietro Punta quelli dietro Punta quelli dietro Mi fanno Scappa 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 Arriva gente Dobbiamo andare via Leo Dobbiamo andare via C'è troppa gente Leo Troppa Terra 2 Io voglio prendere questi qua Leo Leo Sono colpi Non ho colpi Le ho 5 colpi sulla R Io andrei proprio via Te lo giuro Lasciamo quale kill è buona Cioè muoio Sennò 100% Non ho cure Non ho corazza Come vuoi tu Guarda qua Non ho Se trovo qualcosa per sparare Volentieri Ma non ho nulla Trocato uno Conferma le kill Andiamo via Ok arrivo con un Se riuscisse Ci provo Confermato E' buono Ce n'era un altro Aspetta Sto luttando Spero che non mi ammazzi Ok ne ho visto uno Io sento passi dietro Arriva a te No ma perché si stanno fightando Vogliamo andare a provare A scravarci le kill Non ho 100 di vita Ci provo Davanti Davanti a me Davanti a me L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho fatto No Continua ad andare Occhio Leo ti prego Ho ferito Mi ha ferito L'ho ucciso Buono buono Conferma tutte le kill Leo dietro Mi ha fatto Mi ha fatto Te lo puoi fare Bravo Leo Era l'ultimo Grande Ok Hai cura No zero Adesso provo a lootare Scappiamo Ok Lo ultiamo con calma Abbiamo liberato tutto Era quello che dovevamo fare Quante kill hai tu? Io tre Tu? Ok due Cinque Cinque start Buono Ottimo Ottimo Ci sta Più che altro C'era troppa gente zio Non potevamo non challengerli Perché per un attimo Non avevo proprio più colpi Avevo 100 di vita C'era proprio un suicidio per me Vedi adesso loro hanno un po' di pressione addosso Ma hanno più kill di noi Non ho visto No 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 zero Stanno solo mettendo a terra Ah ok ok Pensavo ne avessero quante noi Ok zio Andiamo da qualche parte A fightare altri Vai vedere quanti kill hanno? Quattro Siamo Cinque a quattro per noi Siamo Ok vogliamo andare qua Nel finire a fianco? Dai volendo si può fare Vogliamo andare di là? Andiamo verso river C'è un elicottero zio? Che dici? Sì si può fare L'elicottero non è male Io ho paura di andare qui però sappio Se c'è gente dentro la casa È una bella merda Qua è tutto luttato? Sì No? Cioè sì sì hanno aperto anche la cosa Sì Prendo un trophy che non è male C'è lo zaino e ti serve? Non serve a me Mi sa Ok Vai vedere i punteggi di squadra Siamo a tre Quattro Sempre cinque a quattro per noi Ah io ci sono Leo se vuoi Ok arrivo Mi stanno spottando gli zombie Più che altro Guido io o guidi tu? Vabbè tanto ci buttiamo Io direi che possiamo buttarci a river Cioè comunque Troviamo un posto buono Ci buttiamo Vediamo se becchiano gente Prima di tutto Ok Vediamo questi qualcosa Stanno combinando I nostri avversari Qua 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 C'è gente da loro Ci buttiamo? Non li vedo Guardate il dardo No non c'è più L'han fatto L'hanno ucciso? Sì sì Era da solo uno Ma come è possibile? Era un nemico e bar Vabbè siamo pari Cinque pari Siamo al bordo della safe qui Potrebbe essere buono Se abbiamo un bel team di bot Che ruota Ok Aspetta a vedere la tempesta Si sparano qua a destra Si sparano Dove? Ok Li sento qui Ok lì c'è la smoke Sono in uno street Avvicinati che gli sparo dall'alto E li killo C'è gente che spara a noi C'è gente che spara a noi Zio c'è uno Noccato uno Bravo Leo Bravo Leo Sparagli ancora Sono in tre Sparagli Non li vedo Sono giù c'è l'albero Dove c'è l'albero? Ho visto fermo Eh ce l'ha L'ho ucciso un altro kill Mi ha dato Perché lui non era per l'ultimo Era loro due Era loro due Bassa Sono andati giù Sì sì Sono andati giù Ok Questa è stata huge Guarda lì c'è un code Erano quelli che ci sparavano Ce l'abbiamo davanti Ok Se vai in basso Li scopo Te lo giuro Se vai in basso Si sono scesi Sono scesi Andiamo giù Ci allenziamo Si sicuro? Sì sono dentro la casa Ok vai vado nel tetto Eh no Ho giocato Niente tetto Un par di cazzi È su Preso Era uno Ottimo Vediamo se c'è Ok che culo C'è il caricatore avanzato Ci sono accessori vari Se te li vuoi prendere Ok Ho preso anche la corazza Più buona della mia Nice Allora ci siamo Riprendiamo l'elicottero L'hai distrutto? Eh no È andato giù È perché ci siamo buttati Guarda qua Se vuoi prenderlo Leo Sarai il rottame Cos'è? Se vuoi venire a prendere l'elicottero È davanti a me Cazzo è Dai lo pigliamo Ci sta Cosa Andiamo dentro ai pannocchi Subito Così Sono a poligono tipo Sono a sinistra Sono qua a sinistra Andiamo Quanti kill Io ho 6 kill comunque Io ho 2 8 kill abbiamo Mi sa 5 5 sì 5 Ok Perfetto Perfetto Allora gli spari arrivavano Poligono Da qui arrivavano Poligono più o meno Sì anche zona Ma pigliamo il camion Che dici? Possiamo un po' troppo Eh sì Poi è lentissimo Vabbè non è in lontana No ci arriviamo tranquilli a piedi Comunque potremmo usarlo per scappare Nel caso il camion Era una poligono tu hai detto? Sono a poligono Secondo me Comunque questi stanno facendo una strage Ma di chi l'hanno? Eh mi sa che adesso ne arrivano 4 Ne ha messe eccole qua Guarda quante cazze ne ha fatte Sono 7 8 pari 8 pari siamo Sì Pezzi di merda Andiamo verso la fattoria rossa Eccoli 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 erano quelli che sparavano Sono in 3 1 2 3 Sì ma non siamo in safe Dopo poligono E ci han visto Ci han visto Leo Ma dove sono? Io non li ho visti Sono dal lato posto di poligono Li ho visti Li ho visti Ci han visto uno a cecchino Io posso provare Ascolta andiamo nella fattoria rossa E li aspettiamo lì Devono passarci avanti Vado veloce Si fightano Si fightano E uno è qua Uno è dentro a poligono Uno è dentro a poligono Leo vieni C'è un botto di gente a poligono Arriva arriva Eh ma c'è la tempesta Non hai capito? È dietro Ce l'abbiamo attaccata al culo One hit uno Dov'è? Eh Un mezzo figo un po' Mi stanno noccando Sono one shot Chi va appa lì? Chi va appa lì? L'ho fatto uno Bravo Bravo Non mi scavalca Ci prendiamo la zona rossa Sono dall'altro lato Leo Sarebbero anche fattibili Ti giuro No sparano a me Sparano a me Leo Sparano a me Ranna 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 Provo Ok No c'è uno zombie Ma vaffanculo Non li vedo Si si sono gli zombie Ok lo visto fermo Un per due Che figlio di puttana Non ti muovi Mi lagga Leo Mi ha preso un cecchino Ti sta laggando? Tutto non so perché Stai laggando un bot zio Porca troia Leo Si ti sento io Mi sono interrotta Ti ha buttato fuori? No Ti hanno addossato questi cornuti Mi sono interrotta Mi da Devi muoverti zio Devi muoverti Ci sono Ci sono Leo Vai corri 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 Ok Ti stanno addossando comunque Sono qua sopra i tipi eh Sono qua sopra Qua sopra sono tre tipi A nord Ok Ah li vedo Li vedo Li vedo Andiamo Vuoi provare a pusharli? Eh Direi che è la cosa più Ok Attenzione Previsto ulteriore collasso Trasferitevi nella zona sicura Andiamo? Eh aspetta aspetta Sono dietro di te Occhio Ok uno è sceso Destra Va verso destra Scende dalla collina Arriva uno qua Ok Finici di tutti A Leo Ogni kill è fondamentale Eh dai domani Bravo Ok l'altro sulla collina Vai 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 Bravo Bravo Ottimo Guarda il punteggio di quegli stronzi Che ti stanno addossando 100% Non l'oro che stavano addossando Un attimo eh Però un attimo Non ho C'è una corazza al 2 lì Leo Da qualche parte Ce l'ho già io No e per me dico C'è qualcosa lì Mi sparano Mi sparano Da stazione credo Non ho idea Non ho molto guardo Sì sì da stazione Da stazione mi spara un cecchino eh Vabbè givapiamolo givapiamolo Andiamo Attraversiamo il fiume niente là dai Quante kill hanno quelli là? Li hai visti? Adesso guarda Adesso guarda Appena siamo un po' più tranqui 21 vive Tu quante kill hai? 4 tu Io ho 8 12 Adesso appena Giochiamo dai giochiamo Vediamo come va Vabbè giusto per capire un attimino Guarda se riesci a vedere Perché così cambiamo modo di giocare 8 8 ne hanno Sono a 8? Sì Minchia si sopra di 4 Buono buono Hanno la pressione addosso Devono fare mosse loro Infatti i quali di stazione Non li challenge Non 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 challenge Non servono a nulla Esatto esatto Hanno il cecchino Vieni qui Eh io invece Secondo me qua a destra è pericoloso Se arriva qualcuno da destra Infatti Secondo me ci sarebbe andare a stazione Invece si stanno challenge A stazione Verso altra gente Potremmo andare a prenderli noi Vabbè dai proviamo Vengo con te I tipi hanno fatto una tripla Una doppia Sì Arrivo Arrivo con te Ma non capisco chi è che spara Sento botto di rumori Aspetta Guardi attorno eh Perché Io sto tenendo doppio sazione Sono qua vicini eh Cioè qualcuno che sta sparando qua a fianco Eh infatti Quelli stanno continuando a killare Pezzi di merda Ok sono qui a fianco zio Sono qui In qualche casa qui di queste qua Oh no qua è vuoto No no dico di queste qui Andiamo Sì sì là sicuro Qua davanti c'è gente sicura Io ho un dardo anche Tira lo tira lo Ok l'ho visto l'ho visto Tira lo così lo vedo anch'io Siamo sicuri Ok vai 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 Guarda che così dalle kill anche loro Abbiamo visto uno Ma noi siamo più vicini loro Di brutto Eh Ho due granate Gli retiro Uno è uscito Uno è uscito Due sono usciti Uno è sul tetto Sto spandando granate No no non vi Leo ce n'è una finestra Ce n'è una alla finestra Sono in quattro Leo sono in quattro Uno davanti No mi fanno Mi fanno Non è vero Incredibile Ho fatto una doppia Di Leo Conferma eh Conferma Confermate Confermate Nice C'è l'ultimo tipo sul tetto Uno Vado a prenderlo Provo eh È il secondo piano È qua Leo è qua Il lato Bravo bravissimo Ok ok Io devo trovare una corazza al 2 Per forza Cioè non ho Davanti a me uno In acqua Vado a prendere Ammazza quello che Fatto Oh bella Questa corazza Godo Si vede un cazzo Stanno ittando No è andato sott'acqua Io non vuole morire Non ho idea quanto gli sto dando Di colpi È quello che ha smoccato Vero Si sta usando il rampino Ce ne sono due Un altro Un altro Sono in due Nittato Dov'è Sono due sopra Occhiole a pusciarli da sola Sono in due Hanno l'altezza Sparano a me Sparano a me Ma che cazzo Che spara Cazzo ma non è quello Che sto sparando io Questo qua Non può essere No ce ne sono Ce ne sono un botto Ce ne sono un botto Stanno mettendo one shot Scappo Stanno challenge Quelli là eh Sì sì infatti andiamo Proviamo Veloci Io non ho più cura Da chi lato C'è ne uno sopra Dalla collina Dai però Pezzo di merda Me l'hanno rubato Quanti kill hanno loro Siamo sopra di due Siamo sopra di due Tu ne hai Eh io non ho più cure Siamo otto rimasti Siamo otto rimasti Vieni te le troppo qui Te le troppo qui zio Vieni a prendere te le Dove sei Ok arrivo ti do Cosa ti serve Dobbiamo pushare E fare una doppia Se facciamo la doppia Abbiamo vinto Se facciamo una kill Abbiamo il pareggio Invece assicurato Io corro 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 Una kill serve Giusto per andare sul sicuro Ok 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 Una kill abbiamo vinto Una kill Abbiamo il pareggio assicurato Due kill abbiamo vinto Io corro allora Ci splittiamo Che dici No no Giochiamo vicini Figa ci serve una kill Altro che splittarsi Dammi la crozza al 3 Ti prego Godo Lo sta facendo il tipo L'ha ucciso L'ha fatto Era da solo E' qua E' qua E' qua E' qua E' qua Gannato E' fatto Godo abbiamo vinto Abbiamo fatto due kill Oh dietro dietro l'ultimo E' qua da me E' qua da me E tu Leo te lo mangi E' qua sopra Sì abbiamo vinto Abbiamo vinto Non possono più vincere Godo Godo Credibile Godo minchia che partitona Te lo giuro Che partitona Abbiamo fatto anche un botto di chi Mamma Combattuta in una maniera incredibile Incredibile Poi vedere Abbiamo fatto 12 e 6 18 E loro 16 I'm sorry guys 24 abbiamo demoliti Godo Abbiamo fatto una partitona assurda Mi spiace ragazzi Sarà per la prossima volta Sarà per la prossima volta Bella mi è piaciuta un sacco Vedi così è divertente E' giocata come dei dannati proprio Dei dannati Il tipo ha fatto più kill di me 13 kill Però il suo compagno è una pippa Ne ha fatte solo 3 2.141 Perché io ho fatto molto più danno di lui Guarda Sì 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 Ho fatto 10 pulizie Bella Ciao 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 Buongiorno 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 Buongiorno